salve amici dell'uncinetto vediamo come fare questa fascia per la testa che appunto scalda la testa e le orecchie per l'inverno e facilissima da fare andiamo subito al tutorial ciao ecco vediamo lo schemino della fascia allora abbiamo una lunghezza totale di tutta la fascia di centimetri 46 la parte centrale più alta che è quella che andrà proprio della parte del viso è di centimetri 24 mentre i due pezzi che vanno sulla nuca sul retro e che quindi vanno vedete a diminuire ad essere più sottili sono di 11 centimetri ciascuno andrà messo un bottone o due in modo da poter regolare la circonferenza di questa fascia e da una parte invece faremo l'asola e si lavora a partire si lavora in verticale quindi partiamo da qui poi man mano aumentiamo fino a raggiungere l'ampiezza totale che ci serve della fascia e proseguiamo fino alla fine dopo 24 centimetri poi andremo di nuovo a restringere la parte più alta della fascia misura 11 centimetri quindi la parte più alta che va a coprire la sommità della testa allora lavoriamo questa fascia per capelli per scaldare la testa in inverno con un filato di spessore medio adatto per un uncinetto numero 5 facciamo il nodo di inizio e facciamo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 sulla seconda maglia a partire dall'uncinetto lavoriamo una maglia bassa una maglia bassa e a seguire una seconda maglia bassa una terza una quarta quinta e sesta sull'ultima catenella fine della prima riga anche per la seconda terza e quarta riga proseguiremo a lavorare sei maglie basse quindi per la seconda alla fine della prima riga che facciamo facciamo una catenella voltiamo e andiamo a fare a lavorare dalla seconda maglia perché la catenella sostituisce la prima quindi due tre quattro cinque e sei andiamo avanti in questo modo catenella e voltiamo fino alla quarta riga abbiamo concluso la quarta riga facciamo iniziamo la quinta con una catenella e voltiamo il lavoro e andiamo a fare la prima catenella conta come prima maglia bassa la seconda maglia bassa e sulla terza facciamo l'aumento lavorando 1 e 2 maglie basse nella stessa maglia andiamo avanti un'altra maglia bassa e nella praticamente penultima andiamo a fare un altro aumento quindi altre due maglie basse nella stessa maglia e l'ultima maglia bassa sulla catenella d'inizio e abbiamo terminato la quinta riga sesta riga andiamo a lavorare sulle tutte le maglie che abbiamo fatto che sono in totale una due tre quattro cinque sei sette e otto ripetiamo per la sesta riga ripetiamo otto maglie basse quindi una due tre quattro cinque sei sette e otto nell'ultima catenella una catenella e allora adesso dobbiamo fare settimo e ottavo giro e facciamo di nuovo un aumento quindi una catenella per girare questa è la settima riga prima maglia la saltiamo perché è la catenella che sostituisce la maglia nella seconda facciamo una maglia bassa nella terza ne facciamo due e proseguiamo a lavorare con tutte maglie basse fino alla penultima nella penultima ne lavoriamo 2 1 e 2 e l'ultima sulla catenella d'inizio quindi settima riga abbiamo un totale di 10 maglie basse catenella e voltiamo e ripetiamo le 10 maglie basse anche sull'ottava ho concluso l'ottava riga con 10 maglie basse faccio una catenella e giro il lavoro per la nona riga nona riga inizia con una catenella poi facciamo nella seconda maglia una maglia bassa nella terza ne andiamo a fare due e poi proseguiamo con tutte maglie basse per andare a fare un altro aumento sulla penultima maglia dove lavoreremo due maglie ecco qui una e due e l'ultima sulla catenella quindi nona riga abbiamo un totale di 12 maglie basse decima riga ripetiamo le 12 maglie basse senza fare aumenti riga 11 ripetiamo di nuovo 12 maglie basse senza fare aumenti iniziamo la quattordicesima riga quindi una catenella che mi conta come prima maglia bassa una seconda maglia bassa nella terza vado a fare l'aumento quindi terza e quarta poi proseguo con tutte maglie basse e vado a fare l'aumento sulla penultima facendo due maglie basse nel nella stessa maglia per un totale di 14 maglie basse ecco qui faccio l'aumento 1 e 2 maglie basse nella stessa maglia e poi sulla catenella alla fine l'ultima maglia bassa quindicesima riga ripeto 14 maglie basse senza fare aumenti alla riga 16 facciamo di nuovo un aumento di due maglie per un totale di 16 maglie basse per un totale di 16 maglie basse da fare sulla sedicesima e diciassettesima riga riga 18 e 19 ripetiamo di nuovo 16 maglie basse dunque adesso sono finiti gli aumenti e dalla ventesima riga iniziamo la parte centrale della fascia allora due catenelle per voltare e sostituire la prima maglia prendiamo il filo e nella seconda maglia facciamo una mezza maglia alta e proseguiamo a fare tutte mezze maglie alte in ognuna delle maglie sottostanti per un totale di 16 mezze maglie alte comprese le prime due catenelle di inizio che rappresentano la prima mezza maglia alta ok abbiamo concluso la ventesima riga con 16 mezze maglie alte due catenelle voltiamo il lavoro che sostituiscono la prima mezza maglia alta nella seconda andiamo a fare una mezza maglia alta ma lavorata in costa sul filo dietro e stessa cosa per tutte le maglie che seguono quindi lavoriamo tutte mezze maglie alte in costa sul filo dietro ventiduesima riga continuiamo a fare tutte mezze maglie alte sempre in costa sul filo dietro e andiamo avanti così sempre in questa maniera lavorando tutte mezze maglie alte in costa sul filo dietro per ogni riga per tutta la parte centrale della fascia eccoci qua abbiamo lavorato la parte centrale della fascia quella che andrà sulla sommità della testa e adesso dobbiamo ripetere questa parte che invece va a forma di trapezio per appunto creare l'ultimo pezzo della fascia che si riallaccerà dietro allora abbiamo lavorato dalla riga 21 alla riga 44 eccola qui tutte mezze maglie alte in costa adesso torniamo a lavorare a maglia bassa e facciamo per la riga 45 46 e 47 tutte maglie basse senza fare aumenti e diminuzioni quindi 16 maglie basse per ogni riga e cioè la 45 la 46 e la 47 quindi riga 45 46 47 facciamo 16 maglie basse senza diminuzioni e anche la riga 48 sono 16 maglie basse senza diminuzioni non l'ho detto nella videata precedente ve lo dico adesso quindi quattro righe di 16 maglie basse adesso dalla riga 49 invece cominciamo a fare le diminuzioni facciamo la solita catenella per girare e nella seconda maglia dove dovremo fare la seconda maglia bassa andiamo a infilare l'uncinetto tirare fuori il filo non completiamo la maglia bassa infiliamo nella maglia che segue l'uncinetto tiriamo fuori un altro filo in modo che rimaniamo con tre fili sull'uncinetto una gettata di filo per chiudere la maglia bassa quindi due maglie a due maglie basse chiuse insieme rappresentano una diminuzione dobbiamo farne due di diminuzioni l'altra la faremo sulla terz'ultima maglia quindi andiamo avanti con le maglie basse quando arriviamo alla terz'ultima sulla terz'ultima e penultima facciamo due maglie basse incomplete da chiudere insieme eccole qua terz'ultima stessa cosa infilo tiro fuori tiro fuori due fili sull'uncinetto infilo nella maglia successiva tiro fuori tre fili sull'uncinetto chiudo insieme le due maglie basse ho fatto la seconda diminuzione sull'ultima maglia lavoro la maglia bassa normalmente e quindi da 16 maglie basse adesso sono diventate 14 riga 50 ripeto 14 maglie basse riga 51 faccio altre due diminuzioni cioè diminuisco di due maglie che da 14 diventano 12 e faccio nello stesso modo ve lo faccio rivedere sulla seconda prendo il filo ma non termino la maglia vado su quella dopo e quindi faccio due maglie basse chiuse insieme sulla terz'ultima e penultima faccio la stessa di riduzione per un totale quindi di 12 maglie basse anche per la riga 52 e 53 lavoro 12 maglie basse ok ho completato la 53esima riga con 12 maglie basse adesso per la riga 54 e 55 devo andare a ridurre a 10 maglie basse completata anche la riga 55 con 10 maglie basse adesso per la riga 56 e 57 devo ridurre a 8 maglie basse ho terminato la 57esima riga con 8 maglie basse adesso per la riga 58 59 devo andare a ridurre a 6 maglie basse dunque ho terminato la riga 59 con 6 maglie basse adesso sulla riga 60 devo andare a creare l'asola le maglie adesso saranno sempre 6 quindi 60esima riga una catenella per girare questa catenella rappresenta la prima maglia della riga una seconda maglia bassa poi 2 catenelle salto 2 maglie 12 e nella terza e penultima maglia mi attacco con una maglia bassa mi attacco con una maglia bassa e termino sull'ultima maglia con un'altra maglia bassa riga 60 adesso la sessantesima ed ultima riga una catenella giro sulla seconda maglia una maglia bassa 2 maglia bassa 2 maglie basse nell'archetto formato da 2 catenelle e termino con 2 maglie basse sulle 2 maglie basse sottostanti 1 e 2 ecco adesso ho finito fatto anche la sola e posso tagliare il filo e chiudere il lavoro a questo punto possiamo applicare il bottone per chiudere la fascia ne potete anche applicare due a due distanze diverse in modo da renderla regolabile cioè più stretta e più larga e adesso vediamo come fare il fiore decorativo da mettere qui su il lato in modo che sulla testa il fiore vada un po di lato per fare il fiore utilizzo un uncinetto leggermente più piccolo e cioè numero 4 faccio un anello magico all'interno del quale andrò a lavorare 12 maglie basse esclusa questa prima catenella iniziale quindi 1 2 3 eccetera fino a chiudiamo l'anello magico in modo che il foro d'inizio non sia troppo troppo largo e sulla prima maglia bassa del giro ci uniamo con una maglia bassissima e tiriamo ancora un po il cerchio ecco qua per stringerlo adesso 3 catenelle sulla maglia che segue una maglia bassa e una seconda maglia bassa di nuovo 3 catenelle nella maglia che segue una maglia bassa e poi una seconda andiamo avanti così per tutto il giro fino ad avere un totale di sei dunque abbiamo concluso il giro con la seconda maglia bassa e quindi abbiamo creato sei archetti formati da tre catenelle ciascuno non chiudiamo questo giro con una maglia bassissima come si fa di solito ma andiamo direttamente a lavorare il nuovo il giro successivo prendiamo il filo e nell'archetto di tre catenelle facciamo sei mezze maglie alte 1 2 3 4 5 6 e andiamo a chiudere qui nella maglia bassa immediatamente successiva con una maglia bassissima con una maglia bassissima adesso rifacciamo sei mezze maglie alte nell'altro archetto 2 3 4 5 e 6 e chiudiamo con una maglia bassissima nella maglia bassa e immediatamente successiva andiamo a fare questo in tutte sei gli archetti dopodiché chiudiamo il lavoro il nostro fiore è completo la nostra fascia è completata ed è pronta per essere indossata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti